questo qua è il settore vigna cantina dove ci occupiamo praticamente di curare tutta la parte vitivinicola e poi il vino nella parte della cantina quindi ecco appunto in inverno facciamo tutta la parte della potatura poi in primavera quando la vigna inizia a fiorire si diciamo si tolgono delle gemme per far sì che l'uva venga più di qualità poi si fa movimento fili si spollona insomma si prepara la pianta per far sì che venga un'uva particolarmente buona dai per me il vino è tanto sacrificio impegno dedizione amore confronto con le persone sia io adesso la sento casa mia